Si svolgerà questo venerdì 26 maggio a partire dalle 16 nel seminario Vescoviglia di Arezzo la festa dei seminari del distretto 171 del Serra International Club che raggruppa i club di Toscana Sud e Umbria. Un pomeriggio che dopo il ritrovo dei partecipanti si aprirà con i saluti delle autorità ecclesiastiche serrane. Alle 16 e 30 è in programma una relazione sulla figura di Don Andrea Santoro che sarà curata dalla sorella Maddalena Santoro con proiezioni e testimonianze. Le conclusioni saranno affidate al governatore Maria Rosaria Cacciabovie. Alle 18 è previsto il trasferimento nella cattedrale di Arezzo dove alle 18 e 30 si svolgerà la messa che sarà preseduta da Monsignor Riccardo Fontana e concelebrata da Monsignor Rodolfo Cetoloni, Vescovo di Grosseto e da Monsignor Stefano Manetti, Vescovo di Montepulciano. La serata si concluderà con un momento conviviale presso il refettorio del seminario Vescoviglia di Arezzo. Il Serra Club è un movimento internazionale laicale al servizio della Chiesa Cattolica il cui scopo è di sostenere le vocazioni al sacerdozio ministeriale e alla vita religiosa consacrata mediante la preghiera, l'amicizia e ogni altra attività.